Stanotte si è attivato una di queste fallie minori e quindi si è verificato un termine di magnitudo 3.5 e dopodiché è iniziata anche la sequenza degli aftershock che finora è arrivato a più di 50. Sotto i piedi di Siena la terra continua a tremare dopo la scossa di magnitudo 3.5, prosegue infatti lo sciame sismico. Fa paura soprattutto in questo periodo dove abbiamo queste notizie tremendi dalla Turchia. La prima scossa la più forte alle 21.51, l'epicentro a Siena ad 8 km di profondità. L'Italia si sta spezzando e questo si vede dai dati GPS che la parte orientale va verso nord est più velocemente rispetto alla parte occidentale. La falla attiva nell'Apenino dalle nostre parti e soprattutto la falla alto di Perina. Rimangono comunque le vecchie falle intorno a Siena ma anche a Cettaglio Castel Fiorentino c'è stata una sequenzina qualche anno fa. E quindi queste falle ogni tanto si svegliano ma con delle maniture abbastanza moderate per accomodare lo stress che c'è nell'Apenino. Decine le scosse registrate da ieri sera con magnitudo fino a 2.7. Lo guardiamo dal punto di vista statistico, un terremoto magari di magnitudo 3.5 automaticamente per soddisfare il nuovo equilibrio, diciamo per arrivare al nuovo equilibrio che sta disturbato da questa scossa vuole che ci siano altre scosse che portano a questo equilibrio. Nessun collegamento tra questo sisma e i forti terremoti accaduti in Turchia. Con quello di Siena non c'è nessun collegamento, è troppo lontano, è troppo scollegato, altre falle, altri sistemi. E soprattutto Siena non è molto sismico generalmente, se ci fosse un collegamento sarebbero scattate altre sequenze in aree molto molto più vicine e molto più pericolose.